Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere Handicay, è un nuovo tweak che consente di organizzare la tastiera di iOS su un lato solo del dispositivo per utilizzarla al meglio solo con un pollice. Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video targato iPhoneItalia.com. Oggi si parla di jailbreak, oggi si parla di Cydia, oggi si parla di Handicay, di un nuovo tweak per dispositivi jailbroken che ci consente di utilizzare la tastiera di iOS con un pollice solo. Con una mano sola, vediamo come. Allora, intanto possiamo scegliere il default layout dall'applicazione impostazioni, scegliendo di utilizzare la tastiera in modalità piena, ossia così, in modalità a sinistra, vedete, o in modalità a destra. C'è poi un'altra impostazione molto carina, solo che una volta attivata bisogna eseguire un respring per rendere effettiva la modifica, che è Show Tool Keys. Attivata questa voce, vedete, scorrendo la tastiera verso sinistra e verso destra, vengono mostrati questi tasti per il taglia, copia e incolla e il tasto indietro. Mentre sulla sinistra vedete stessa cosa, quindi anche questa è una caratteristica molto utile di questa particolare tastiera che si ottiene con l'installazione di Handicay. Proviamo proprio ad utilizzare questi nuovi pulsanti, creiamo una nuova nota, ecco, vedete, sposto la tastiera in questo modo. Ad esempio scrivo, voglio annullare il tutto, vedete, torno indietro con questo tasto. Molto semplice e molto utile, quindi ragazzi, se siete interessati, Handicay è ora disponibile per il download da Cydia, trovate tutte le informazioni su iPhoneItalia.com. Io, come al solito, vi ringrazio per aver guardato questo nuovo video e noi ci risentiamo alla prossima. Ciao a tutti! Se ti è piaciuto questo video, clicca mi piace, condividilo su Facebook e iscriviti al canale se non l'hai già fatto. Queste tre cose ci aiutano a crescere e a migliorare per proporti sempre nuovi video dedicati all'iPhone di Apple.